Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Terra Amara puntate dal 18 al 24 dicembre. Demir Delega Betul, responsabile dell'azienda Yaman, ignorando la vendetta che la donna medita nei confronti di Adnan Yaman, reo di essersi appropriato dell'azienda che in realtà è stata fondata da suo nonno Serafettin insieme a Adnan il padre di Demir. Gli Yaman subiscono una serie di attacchi, ultimo in ordine di tempo, il rapimento di Leila, che scatena l'ira di Zuleya nei confronti di Umit. Quest'ultima è tenuta prigioniera da Sermin, per volere di Demir, ed è ritenuta da Zuleya responsabile del rapimento della figlia. La procura apre un fascicolo su Demir, indiziato per l'omicidio di Sedda. Lo stesso Demir, insieme a Fikret, indaga sul rapimento della piccola Leila convinto, dal fratellastro, che possa essere opera di Akan Gusumoglu. Costui è un vecchio socio di Demir, deluso per essere stato abbandonato nel momento del bisogno. Dopo un'estenuante e infruttuosa ricerca, il rapitore di Leila fa ritrovare la bambina sana e salva. Demir, nel ringraziare tutti coloro che hanno aiutato le ricerche, annuncia che Fikret è suo fratello e che d'ora in avanti dovrà essere considerato uno Yaman a tutti gli effetti. Ma la gioia alla villa dura poco. I gendarmi, infatti, arrestano Demir perché sospettato dell'omicidio di Sedda. Ci sono poche speranze che l'uomo venga scarcerato in attesa di giudizio, in quanto gli indizi contro di lui sono schiaccianti. Demir vuole uscire quanto prima di prigione perché è preoccupato di ciò che può fare il suo nuovo nemico Akan alla sua famiglia. Così Fikret scogita un piano per farlo evadere e fuggire in Sira. Demir, però, si rifiuta di andarsene senza moglie e figli e quando torna a casa per portare via Zuley e i bambini, la villa viene assaltata da un gruppo di uomini armati. Alla tenuta Yaman, tutti affrontano le conseguenze dell'assalto alla villa. Zuley è preoccupata perché Demir è scomparso dopo la sparatoria e teme che sia stato rapito dagli aggressori. Gaffur e Sanie, invece, aspettano che Uzum, ferita da un colpo di pistola, si risvegli dal coma. Nel frattempo iniziano le indagini e il procuratore, su suggerimento di Umit, si convince che sia stato Demir a far assaltare la villa. Così da avere un diversivo per poter scappare alla giustizia. Fikret intuisce che il nemico di Demir, nonché responsabile dell'attacco alla tenuta, è Akan Gumusoglu, fratello dell'uomo che Fichelli ha investito ed ex socio di Demir e compagno di università. Lutfai ipotizza che possa essere proprio lui ad aver acquistato le azioni della famiglia Yaman. Intanto, a Smirne, Abdul Kadir informa telefonicamente Akan della morte del fratello. Betul, che vuole impossessarsi dell'azienda di Demir, è preoccupata in quanto non si conosce l'acquirente del 25% delle quote societarie vendute da Zuleya. La notizia dell'assalto a casa di Demir raggiunge Fichelli in prigione che chiede un permesso per uscire e occuparsi della sua famiglia e di quella di Demir. Zuleya attende in vano notizie dal marito. Sanì e Gaffur vigilano su Uzum, ancora in coma, e cercano di farsi forza a vicenda. Sanì e vede Kumali godersi un ricco banchetto e, accecata dalla rabbia e dal dolore, lo aggredisce davanti ai passanti. Akan viene informato da Abdul Kadir riguardo alla morte del fratello Erkan e decide di trasferirsi a Kukurova per vendicare il fratello. Umit è convinta che la scomparsa di Demir sia un piano per sbarazzarsi di lei. Quindi continua a tormentare Zuleya. Provata dal dolore, Zuleya cede alla rabbia e solo l'intervento delle presenti scongiura il peggio. Le ricerche di Demir continuano, ma nessuno sembra sapere dove sia. Mentre Zuleya si dispera non avendo più notizie di suo marito, nella casa di Fecheli avviene un'esplosione. Betul che si trova in casa in quel momento si salva riuscendo a mettere in salvo il piccolo Keremali. Fikret sospetta che l'esplosione in casa Fecheli sia opera di Akan. La piccola Uzum torna a casa dall'ospedale, per la gioia di tutti. Una settimana più tardi, Demir è ancora disperso e Umit, con la complicità di Kumali, rapisce Adnan. Zuleya si incontra con la donna per riavere suo figlio, ma l'incontro finisce in tragedia. Zuleya confessa ad Ali Ramet e Fikret di aver sparato a Umit ma, quando i tre giungono sul luogo dell'accaduto, non trovano né il corpo di Umit, né la pistola di Zuleya e credono che la donna sia ancora viva e in fuga. In realtà il corpo di Umit insieme alla pistola di Zuleya sono stati presi da Abdul Kadir e Akan che intendono sfruttare la situazione per tenere sotto ricatto Zuleya. Inoltre si scopre che a rapire Adnan è stato Kumali, il quale è fuggito dalla villa facendo perdere le proprie tracce. Nel mentre Sermin e Betul continuano a tramare alle spalle di Zuleya che, anche grazie ai consigli di Ali Ramet, trova la forza di affrontare la situazione e si dimostra la vera signora degli Yaman. I pericoli però sono dietro l'angolo, poiché Akan sembra aver messo gli occhi su di lei.